Buongiorno a tutti, bentornati su Cartino Rosi, sono Matteo il Giudice e oggi parliamo dell'ultimo colpo di mercato della Roma femminile. Infatti dopo l'arrivo di Elena Linari per rinforzare il reparto difensivo, e che rinforzo sta facendo già molto bene e la differenza in campo di tutta la squadra è netta rispetto a prima che arrivasse il difensore della Nazionale Azzurra, ma adesso si pensa anche all'attacco. Infatti la Roma ha ufficializzato Marija Banusic, attaccante svedese in arrivo dal Montpellier, ma con tanta esperienza nel campionato svedese per l'appunto nella sua nazione, ma anche una piccola parentesi nel Chelsea e un anno perfino in Cina. Quindi ha girato tanto, si è fatta esperienze in vari campionati e adesso è pronta a giocarsi le sue carte anche in Italia con la maglia giallorossa. Lei può fare sia la prima punta che la seconda, quindi è una giocatrice comunque abbastanza duttile, dipende poi da come vorrà mettere in campo la squadra Betti-Bavagnoli nelle prossime partite. Però è la prima punta appunto che mancava a questa squadra, che comunque ha tantissime fasce, Bonfantini, Tomas, Serturini e c'è Lazzaro che viene appunto utilizzata come punta centrale. Però non è proprio quello il suo ruolo, invece Banusic nasce appunto come prima punta. È un numero 9 ma anche una numero 10, come si definisce lei, quindi comunque è abbastanza duttile, come già detto. Un acquisto importante che fa capire l'intenzione della società, comunque giallorossa, ovvero quella di un attimo colmare le lacune che si sono viste nella prima parte di stagione, soprattutto dopo che con il cambio di proprietà il mercato della squadra femminile era rimasto un po' in ombra. Adesso invece a gennaio è arrivata lei, Banusic è arrivata lei, lei è arrivata lei, lei è arrivata lei, lei è arrivata lei. E questa Roma ora inizia a far paura, il 4-0 a San Cimignano, a Santa Lucia contro la Florenzia ha fatto subito capire che questa Roma è tutta un'altra squadra rispetto a quella della prima parte di stagione. In campionato certo le 14 lunghezze che la separano dal Milan secondo sono ancora tantissime e difficilmente riusciranno a colmarle, nel corso della stagione. Ma c'è una Coppa Italia dove appunto la Roma ha vinto all'andata il 4-0 a Santa Lucia con la Florenzia, mettendo praticamente in tasca la qualificazione per la semifinale, dove probabilmente affronterà una Juventus che ha vinto 5-4 ad Empoli, c'è ancora la gara di ritorno certo, però le bianconere hanno sicuramente il coltello dalla parte del manico. E quindi la Roma si può dire già in semifinale dove affronterà una Juventus molto probabilmente in una gara andata e ritorno con cui ha già dimostrato di potersela giocare nella semifinale di Supercoppa. Lì la Juventus riuscì a vincere 2-1 però solo grazie ai tempi supplementari con una Roma in 10 uomini e anche qualche dubbio arbitrale che ha condizionato un po' la partita. Ora invece appunto la Roma si rinforza e ha intenzionato a fare molto bene proprio in Coppa, magari trascurando un po' il campionato facendo turnover nelle gare precedenti alle sfide di Coppa Italia per provare ad alzare il primo trofeo al femminile della sua storia. Ed ora non sembra neanche così impossibile perché la squadra fa paura, ha già dimostrato di potersela giocare con la Juventus in una possibile semifinale e poi in finale vedremo come arriveranno le altre squadre e chi arriverà perché la Fiorentina ha già perso l'andata con l'Inter e il Milan sta facendo qualche fatica, un po' di fatica con il Sassuolo, solo un pareggio nella gara d'andata quindi vedremo anche chi andrà avanti nell'altra parte di tabellone. Il campionato appunto c'è poco da fare secondo me in questo momento visti le 3-14 lunghezze dal Milan però qualche soddisfazione magari le giallorosse se la possono togliere, magari alla rincorsa del Sassuolo terzo che non è così lontano. Insomma, questo era un po' il punto su Marija Banusi, sicuramente la pronuncia sarà sbagliata rinforzo della Roma femminile dopo Linari e con l'intenzione di conquistare probabilmente un trofeo entro la fine della stagione anche se poi probabilmente vedremo la Roma al completo dopo quest'estate dove la società potrà lavorare con più calma per rinforzare i vari reparti bisogna assolutamente fare qualcosa centrocampo perché quest'anno con tanti infortuni si è visto che manca qualcosina forse per chiudere la notizia di Serena Landa che comunque va in prestito al San Marino Academy Serena l'anno scorso ha la Roma calcio femminile, quest'anno è passata alla S Roma già l'anno scorso aveva fatto qualche presenza con la Primavera in prestito e adesso quest'anno non trovando spazio in prima squadra con la Primavera che sì, adesso tornerà a giocare il 28 febbraio però preferisce farci un'esperienza in Serie A con il San Marino che sicuramente farà bene magari troverà anche il suo spazio per poter far vedere le qualità San Marino che tra l'altro sfiderà il Milan prossima giornata e vedremo se già lì la vedremo esordire Grazie Grazie